Laudetur Jesus Christus Cari amici teleradioscoltatori, è Pierluigi Bianchi Cagliesi che vi parla per la nostra trasmissione settimanale di approfondimenti. Parliamo in questa trasmissione di un ausilio fondamentale, di una devozione cardine, centrale, imprescindibile della nostra vita cristiana, che è quella del Sacro Cuore di Gesù. Una devozione fondamentale che è stata il centro di tutte le azioni che si sono sviluppate nella storia per la salvezza della cristianità nei momenti più difficili. Uno degli episodi più incredibili in cui l'azione del Sacro Cuore di Gesù si è proprio manifestata in maniera chiarissima è stata durante la resistenza dei cattolici vandeani, ma anche nelle battaglie condotte dai cattolici messicani durante la persecuzione massonica. Questo ricorso, vedete, al Sacro Cuore di Gesù, una devozione centrale, fondamentale, che in epoche, nei secoli passati, venne diffusa soprattutto attraverso l'azione dei gesuiti. Oggi certamente non è più così, ma in quell'epoca il motore propulsore proprio di questa devozione, proprio fu attraverso l'azione di Santi e anche della Compagnia di Gesù, che ne diffuse il culto in maniera capillare. E tutto, vedete, partì dalle straordinarie rivelazioni a Santa Margherita Maria da Cocche, in cui il Signore stabilì le devozioni dell'ora santa e della comunione riparatrice nei primi venerdì del mese. Ma tutto partì, vedete, nel giorno del 27 dicembre del 1673, giorno della festa di San Giovanni Evangelista, in cui Santa Margherita Maria da Cocche, che visse tra il 1647 e il 1690, ebbe questa prima grande rivelazione sui segreti del Sacro Cuore di Gesù, che la riempì della sua divina presenza, mentre questa monaca visitandina, ossia parte dell'ordine della visitazione fondato da San Francesco di Sales e da Santa Giovanna di Chantal, mentre lei era raccolta in adorazione eucaristica. E dopo, pensate, averla fatta riposare sul suo petto, Gesù le disse che il mio cuore divino è tanto appassionato d'amore per gli uomini e per te in particolare, che non potendo più contenere in se stesso le fiamme del suo ardente amore, sente il bisogno di diffonderle per mezzo tuo e di manifestarsi agli uomini, per arricchirli dei preziosi tesori che ti scoprirò e che contengono le grazie in ordine alla santità e alla salvezza, necessarie per ritirarli dal precipizio della perdizione. Uno strumento quindi di salvezza che attraverso questa devozione al Sacro Cuore di Gesù naturalmente dischiudeva un tesoro di grazie inimmaginabile e incredibile che purtroppo tanti uomini, anche importanti, se avessero accettato avrebbero salvato probabilmente le loro esistenze, quelle addirittura di intere nazioni, come vedremo a breve. Il Sacro Cuore quindi le apparve come una fornace incandescente in cui il cuore di Margherita venne immerso e fatto di vampare insieme a quello di Gesù. Il Signore le lasciò un dolore nel costato come un segno tangibile che tutto quello che lei aveva vissuto era reale. Ma poi, in una seconda grande rivelazione, lei si presentò risplendente di gloria con le sue cinque piaghe sfolgoranti come cinque soli e le rivelò fino a quale cesso era arrivato il suo amore per gli uomini e il suo dolore nel vedersi ricambiato con ingratitudini e indifferenze. In riparazione alle offese e ai peccati, Gesù domandò a Margherita di comunicarsi ogni volta che il sacerdote glielo avesse consentito e in particolare il primo venerdì di ogni mese. Quindi, vedete, iniziarono, iniziò questa grande devozione dei primi nove verdi del mese. Le chiese, inoltre, anche di pregare prostrandosi con la faccia a terra tutti i giovedì sera dalle undici a mezzanotte dicendole che a quell'ora le avrebbe partecipato la tristezza mortale provata nel Gezzemani. Quindi, tutti i giovedì sera dalle undici a mezzanotte Santa Margherita si sarebbe dovuta prostrare a terra con la faccia sul pavimento per vedersi, in qualche modo, partecipare a questa tristezza mortale che Gesù provò nel Gezzemani. Quindi, il Signore, vedete, attraverso questa grande santa, Santa Margherita Maria Racocche stabilì di fatto le devozioni dell'ora santa e della comunione riparatrice nei primi verdi del mese. Vedete, i primi nove verdi del mese sono ancora una devozione abbastanza conosciuta. non dico praticata, ma perlomeno nelle anime più ferventi conosciuta. Ma l'ora, per esempio, santa, quella delle giovedì che chiese con la faccia a terra il giovedì sera dalle undici a mezzanotte è invece una pratica, direi, quasi totalmente dimenticata. Vedete che la pratica proprio dell'ora santa è legata alla grande promessa sulla salvezza eterna come quella anche dei primi nove verdi del mese. I primi nove verdi del mese che sono una demozione fondamentale a cui il Signore legò grazie strepitose. Ricordate, ad esempio, che il grande, questo personaggio, questo uomo che si convertì miracolosamente alle Tre Fontane e vi ricorderete di Bruno Cornacchiola della devozione della Madonna della Rivelazione, della Vergine della Rivelazione alle Tre Fontane disse che grazie ai primi nove verdi del mese che lui aveva fatto su ispirazione e su anche richiesta di sua moglie il Signore aveva legato la sua conversione, la sua conversione folgorante accaduta improvvisamente in quella grotta delle Tre Fontane quando gli apparve la Santissima Vergine. E gli disse, aggiunse la Santa Vergine a Bruno Cornacchiola che il Signore mantiene sempre le sue promesse. E quindi vedete che questa grazia che si ottiene con la devozione ai primi nove verdi del mese ci lega proprio a una promessa di salvezza perché, dice il Signore, il Sacro Cuore, disse che coloro che si comunicheranno è stato di grazia moriranno certamente in grazia di Dio perché, come ha promesso Gesù, il mio cuore si renderà a silo sicuro in quel supremo momento. Ma poi, in un'altra rivelazione, Gesù disse a Santa Margherita che tra i tanti sacrilegi e freddezze ciò che più mi amareggia è che ci siano dei cuori a me consacrati che mi trattano così e gli comunicò il desiderio di una nuova festa. Ti chiedo che il primo venerdì, dopo l'ottava del Santo Sacramento che è il Corpus Domini, sia dedicato a una festa particolare per onorare il mio cuore ricevendo in quel giorno la Santa Comunione e facendo un'ammenda d'onore per riparare tutti gli oltraggi ricevuti durante il periodo in cui è stato esposto sugli altari. E io ti prometto che il mio cuore si dilaterà per effondere con abbondanza le ricchezze del suo divino amore su coloro che gli renderanno questo onore e procureranno che gli sia reso dagli altri. Vedete, Santa Margherita inizialmente non venne creduta da molti riuscì poi però a diffondere la devozione al Sacro Cuore proprio, dicevo, grazie all'aiuto di un santo sacerdote gesuita che era San Claudio della Colombière che poi divenne la sua guida spirituale e Gesù affidò a Santa Margherita anche la missione di chiedere al re di Francia, Luigi XIV, di consacrare la Francia al suo cuore, al Sacro Cuore di Gesù e di rappresentarlo anche sugli standardi del Regno di Francia. Ma il re, come sappiamo, non assecondò la richiesta ricevuta nel 1689 esattamente cento anni prima dell'inizio della rivoluzione francese. Vedete che cento anni dopo esattamente scoppiò la rivoluzione francese e Luigi XVI capì probabilmente poco prima di morire che quella mancata consacrazione del suo antenato Luigi XIV pregiudicò il futuro della Francia facendolo precipitare in un baratro di atrocità e di sofferenze inimmaginabili che lo portarono alla sua stessa decapitazione e della consorte, la regina di Francia, Maria Antonietta. Cercò di rimediare a questa mancanza gravissima del suo antenato Luigi XIV, ma fu purtroppo troppo tardi perché quella promessa doveva essere mantenuta e assolta proprio durante il Regno di Luigi XIV. e vedete fu proprio il Beato Pio IX nel 1856 che estese questa solennità liturgica del Sacro Cuore e della festa a tutta la Chiesa e poi negli anni successivi si diffusero atti di consacrazione al Sacro Cuore di Gesù per le famiglie, le nazioni. Il primo paese pensate a essere consacrato al Sacro Cuore di Gesù fu proprio nel 1874 l'Equador grazie al suo presidente Gabriel Garzia Moreno poi ucciso dalla massoneria probabilmente proprio per quest'atto di affidamento e consacrazione all'Equador al Sacro Cuore di Gesù e anche di inserimento del riferimento al Sacro Cuore nella Costituzione dell'Equador. Lo ricordavo in una trasmissione passata Garzia Moreno come un esempio di un vero governante cattolico che fu invece al contrario di Luigi XIV, re di Francia un uomo che corrispose alla grazia di Dio prontamente a costo della sua vita che perse proprio probabilmente per quell'atto a causa di una reazione furiosa che si scatenò da parte degli ambienti massonici. vedete che proprio in questi giorni abbiamo anche ricordato un altro fatto misterioso come effetto di quella consacrazione fatta da Garzia Moreno all'Equador che l'attuale presidente dell'Equador che si chiama con suo stesso nome Moreno anche lui Stalin Moreno è stato diciamo al centro di grandissime polemiche perché ha bloccato in Ecuador la legge sull'aborto. quindi vedete come il ruolo della fedeltà alla volontà di Dio si manifesta anche successivamente in coloro che reggono le sorti dei paesi come non corrispondendo alla grazia di Dio invece si aprono periodi di catastrofi inimmaginabili come avvenne con l'incredulità e la mancanza di corrispondenza alla grazia Luigi XIV che provocò poi la sciagura della rivoluzione francese e lo scatenamento di un'offensiva anticristiana terrificante che gettò la Francia intera in un bagno di sangue fino alla decapitazione del re Luigi XVI della sua consorte Maria Antonietta gli atti vedete di consacrazione ci ricordano la necessità di riconoscere Cristo sia nei nostri cuori e sia nella vita pubblica nostra e degli stati e vedete bisogna fare anche un cenno e i principali precursori del culto del Sacro Cuore come tre sante mistiche tedesche che vissero nel XIII secolo nel monastero di Elfa cioè Matilde di Magdeburgo e Matilde di Akeborg e Gertrude la Grande e come anche San Giovanni Eudes che potrebbe essere proclamato dottore della Chiesa per i suoi insegnamenti su questa unità mistica tra il Sacro Cuore di Gesù e il Cuore Immacolato di Maria disse appunto il Signore a San Giovanni Eudes non devi mai separare ciò che Dio ha così perfettamente unito Gesù e Maria sono così intimamente legati l'uno con l'altro che chi vede Gesù guarda Maria chi ama Gesù ama Maria chi ha la devozione per Gesù ha la devozione per Maria vedete intima unione mistica tra il Sacro Cuore di Gesù e il Cuore Immacolato di Maria che proprio ci è stato dato come pegno in questo momento storico straordinario come nostro diciamo sicuro rifugio unitamente al Sacro Cuore di Gesù ed è per questa ragione vedete che esiste un simbolo proprio che lega misticamente il Sacro Cuore di Gesù e il Cuore Immacolato di Maria che sono unitamente, misticamente uniti in cui la devozione al Cuore Immacolato di Maria ci richiama vedete anche a quella del Sacro Cuore di Gesù anzi ci porta proprio al Sacro Cuore di Gesù è impossibile scendere la devozione al Cuore Immacolato di Maria da quella al Sacro Cuore di Gesù e vedete che la devozione al Sacro Cuore di Gesù è comunque una devozione che invece spalanca le porte proprio a quella del Cuore Immacolato di Maria e ritornando vedete proprio alle apparizioni del Sacro Cuore a Santa Margherita alla Cocca Gesù fece le sue promesse per coloro che avessero onorato il suo cuore e che la Santa stessa riporta nelle sue lettere pensate fra queste promesse ve ne cito alcune che sono le più importanti darò alle persone che manterranno queste promesse tutte le grazie necessarie al loro Stato quindi restare fedeli nello Stato matrimoniale nello Stato sacerdotale nello Stato di vita religiosa porterò soccorso alle famiglie che si trovano in difficoltà e metterò la pace nelle famiglie divise li consolerò nelle loro afflezioni sarò il loro sicuro rifugio in vita specialmente in punto di morte spargerò abbondanti benedizioni sopra tutte le loro opere i peccatori troveranno nel mio cuore la fonte e l'oceano della misericordia riporterò le comunità religiose e i singoli fedeli al loro primo fervore le anime fervorose giungeranno in breve a grande perfezione benedirò i luoghi dove l'immagine del mio Sacro Cuore verrà esposta e onorata ecco molto importante anche questo esporre l'immagine del Sacro Cuore di Gesù e a tutti coloro che lavoreranno per la salvezza delle anime darò il dono di commuovere i cuori più induriti il nome di coloro che propagheranno la devozione al mio Sacro Cuore sarà scritto nel mio cuore e non verrà mai cancellato io ti prometto nell'eccesso della misericordia nel mio cuore che il mio amore onnipotente concederà a tutti quelli che si comunicheranno al primo venerdì del mese per nove mesi consecutivi la grazia della perseveranza finale essi non moriranno nella mia disgrazia né senza ricevere i sacramenti servendo loro il mio cuore di asilo sicuro in quell'ora estrema ecco ricordatevi cari amici rifissate questo punto fondamentale che è quello legato alle promesse dei nove venerdì del mese io ti prometto nell'eccesso della mia misericordia del mio cuore che il mio amore onnipotente concederà a tutti quelli che si comunicheranno al primo venerdì del mese per nove mesi consecutivi la grazia della perseveranza finale essi non moriranno nella mia disgrazia né senza ricevere i sacramenti servendo loro il mio cuore di asilo sicuro in quell'ora estrema cari amici ci sarebbero tante altre cose da aggiungere tenete presente come quello che vorrei sottolineare proprio in questo passaggio è proprio la fondamentale importanza della corrispondenza alla grazia ho ricordato proprio come alla fine del XVII secolo l'Europa era sotto proprio il gioco del protestantesimo che anche se ostacolato dalla Conti o Riforma diffondeva comunque le sue eresie e cominciava a corrompere gli spiriti che si allontanavano da Chiesa e vedete per contrastare questi pericoli che incombevano il sacro cuore proprio decise apparve a Santa Margherita Maria la Cocchia facendole queste prodigiose rivelazioni pensate che proprio ritornando all'episodio di Luigi XIV e ci fu proprio questa volontà del Signore di chiedere proprio al Re Sole Luigi XIV la consacrazione della Francia al sacro cuore di Gesù con i privilegi che questa devozione avrebbe ottenuto irradiando di benedizioni questa società monarchica francese sentite cosa disse Gesù a Santa Margherita la Cocchia come messaggio da rivolgere al Re di Francia al Re Sole fa sapere al Figlio Primogenito del mio sacro cuore che come la sua nascita temporale fu ottenuta grazie alla devozione ai meriti della mia santa infanzia così la sua nascita alla grazia e alla gloria eterna verrà ottenuta mediante la consacrazione che egli farà di se stesso al mio adorabile cuore che vuole trionfare sul suo e mediante questo sui cuori dei grandi della terra il sacro cuore vuole regnare nella sua reggia vuole essere raffigurato sui suoi standardi inciso sulle sue armi per renderle vittoriose su tutti i suoi nemici abbattendo ai suoi piedi le teste orgogliose e superbe per farlo trionfare su tutti i nemici della Chiesa il sacro cuore desidera entrare con pompa e magnificenza nei palazzi dei principi e dei re per esservi oggi onorato tanto quanto venne oltraggiato umiliato e disprezzato durante la sua passione egli desidera di vedere i grandi della terra tanto abbassati e umiliati ai suoi piedi quanto allora venne annichilito vedete che questa richiesta di nostro signore come accennavo precedentemente non si realizzò e un secolo dopo la rivoluzione francese avanzò velocemente abbattendo la monarchia e muovendo persecuzione della Chiesa al Santo Padre e dopo la morte di re Luigi XIV la Francia iniziò purtroppo quell'inarrestabile discesa con ripercussioni gravissime su tutta l'Europa cristiana che stava andando molto velocemente alla deriva e vedete durante la prima guerra mondiale furono esibite oltre 13 milioni di bandiere e i soldati francesi indossarono gagliardetti che riportavano il Sacro Cuore di Gesù con la dicitura si espone per la salvezza della Francia speranza e salvezza della Francia e la portata di questo evento dispose talmente il governo laicista che vietò la consacrazione dei singoli soldati al Sacro Cuore e la diffusione anche dei simboli religiosi ci sono tanti episodi vedete interessanti da ricordare, da citare per la loro importanza ma pensate quello che accade proprio durante la rivoluzione francese quando ormai in assenza in mancanza gravissima fatta al Sacro Cuore di Gesù in questa mancanza Luigi XIV Luigi XVI appunto perse la vita iniziò la repressione feroce contro i cattolici francesi dei giacobini rivoluzionari che tentarono in tutti i modi di esterpare nella radice più profonda il cristianesimo in Francia e naturalmente da questa volontà e da questa violenza inaudita scaturì una reazione che fu la reazione vandeana addirittura ci fu il rifiuto della gran parte dei sacerdoti francesi di prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica Giacobbina e quindi rompere la comunione con la Santa Sede che fece di fatto fallire questo progetto della Chiesa Nazionale Repubblicana rivoluzionaria che comunque costituì un elemento importante del tentativo di operare questa completa scristianizzazione della nazione e i sacerdoti che si rifiutarono di giurare fedeltà al governo rivoluzionario i cosiddetti preti refrattari vennero sistematicamente perseguitati imprigionati deportati e assieme a loro subivano tutte le vessazioni possibili il popolo che ampiamente li sosteneva questo fu l'inizio della Vandea Martire della Vandea Militare e poi dopo anche del Messico come dicevo vedete che successivamente venne vietato il culto a Dio dei cristiani venne messo fuori legge le croci le immagini le feste tutti gli oggetti devozionali vennero fatti scomparire il cristianesimo di fatto in Francia veniva bandito e questo è quello che vedete che oggi inizia ad accadere progressivamente in questa Europa scristianizzata e anticristiana ma uno dei fattori che scatenò la reazione popolare fu proprio dicevamo la decapitazione il 21 gennaio del 1793 del re Luigi XVI di Borbone re di Francia perché oltre all'uomo moriva un'intera generazione del mondo e della vita e l'esecuzione fu intesa come un decidio per alcuni e per altri come un sacrilegio tra il 10 e l'11 marzo vedete di quell'anno 1793 e l'intera Vandea insorse al suono a martello delle campane delle chiese vennero chiamati gli uomini alla battaglia insorsero gli umili i contadini non i nobili e il clero che tra l'altro erano stati spogliati ai loro privilegi i contadini dovettero a lungo pregare i nobili affinché si ponessero alla loro testa per guidare questa reazione questa battaglia forti proprio della loro perizia dell'istruzione militare appresa nelle scuole per ufficiali dell'antico regime i nobili non volevano mettersi alla testa dell'insurrezione quindi furono i contadini a chiedere che fossero loro ad assumersi le loro responsabilità ma non furono solo i nobili a guidare i vandeani anzi molti erano appartenenti ai ceti più bassi c'era un famoso mitico personaggio Jacques Chatelino un venditore ambulante che divenne prestissimo il simbolo dei contadini vandeani che cucirono sulle vesti che avevano in qualche modo inventato come un uniforme un pezzo di stoffa bianca sulla quale venne posto il sacro cuore di Gesù rosso sormontato da una croce il sacro cuore di Gesù e nacque proprio in questa occasione l'armata cattolica e reale schierata contro i ble i soldati della repubblica francese e questo Chatelino aveva ordinato di iniziare la marcia la battaglia intonando con i suoi uomini il famoso inno cattolico vexilla regis un canto della tradizione liturgica cattolica e poi alla fine delle battaglie si ringraziava sempre il signore con il tedeum pensate che Chatelino per la sua pietà religiosa era soprannominato le son dell'angiu cioè il santo dell'angiu di quella regione della Francia cari amici italiani ascoltatori il sacro cuore di Gesù è una devozione che va riscoperta perché come dicevamo all'inizio non è possibile oggi avere un'autentica devozione al cuore immacolato di Maria se non si riscopre e si unisce in modo inscindibile quella al sacro cuore di Gesù il sacro cuore di Gesù vuole entrare in maniera solenne in tutta la sua pompa in tutta la sua magnificenza come disse a Santa Margherita Maria della Cocche non solo nelle nostre anime nei nostri cuori nelle nostre famiglie ma nei palazzi dei principi e dei re per esservi oggi onorato tanto quanto venne oltraggiato umiliato e disprezzato durante la sua passione e gli desidera di vedere i grandi della terra tanto abbassati e umiliati ai suoi piedi quanto allora venne annichilito in quest'epoca storica e simbolica e significativa che stiamo vivendo abbiamo bisogno anche noi cari amici di uomini oggi anche uomini ispirati uomini politici come l'azione che sta svolgendo il presidente Trump e che sempre di più si configura come un'azione provvidenziale di Dio che troverà probabilmente il suo compimento anche con qualche atto simbolico come quello che decise di fare in epoche passate il grande Garzia Moreno nella sua Repubblica dell'Equador affidando al Sacro Cuore di Gesù sulla nazione e inserendo all'interno della Costituzione questo preciso riferimento e noi oggi potremmo aggiungere che nell'interno delle Costituzioni come pegno di salvezza sarebbe indispensabile proprio inserire questo riferimento inscendibile e duplice dell'affidamento di una nazione al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria sembra un'azione impossibile sembra una prospettiva irraggiungibile ma tutto è possibile a Dio e nella corrispondenza degli uomini vedete che c'è la realizzazione di qualcosa di straordinario di inimmaginabile che il Signore può dischiudere improvvisamente come pegno di quest'azione fedele a noi pregare per questo e attendere con fiducia inconollabile la realizzazione dei disegni di Dio su questo mondo perverso e ribelle a tutti voi cari amici l'augurio di una buona settimana laudetur Jesus Christus grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.